Ok, allora buongiorno ancora, questa volta sono riuscito a far partire la registrazione e dicevo siccome ogni settimana cerco di raccontarvi sempre un pezzettino dell'evoluzione del corso, vi voglio cominciare a raccontare qualche elemento in vista dell'esame. Vi farò poi, stiamo preparando un documento completo, dettagliato, però so che gli studenti apprezzano riuscire a capire già un po' in anticipo come dovranno organizzarsi e come si svolgerà l'esame, quindi cerco di non farvelo arrivare all'ultimo momento, ma cominciamo già a condividere insieme così magari anche voi siete in grado, se ci sono delle criticità o dei problemi, di cominciare a segnalarceli e noi eventualmente possiamo cercare di tenerne conto. Dico cercare perché purtroppo gli spazi di manovra sono abbastanza limitati. Allora, io vi racconto ciò che abbiamo finora deciso, poi come vi dicevo per i dettagli aspettiamo un attimo che riusciamo a completare questo documento dettagliato. L'idea per l'esame sarà quella di mantenere il più possibile le modalità di svolgimento del programma in laboratorio. Quindi l'idea è che a un certo punto noi vi diamo un testo da risolvere, quindi vi daremo un progetto su GitHub che contiene già parte del codice, il progetto base è un testo di un esercizio con due punti, uno più gestione delle strutture dati e l'altro più di algoritmo, di ricorsione oppure simulazione. Vi diamo due ore di tempo e voi dovete svolgere questo esercizio sul vostro computer. Per il momento l'ipotesi è questa, poi vi accenno a un'altra ipotesi possibile, però a parte, vediamo perché non so ancora se sarà fattibile o meno. Quindi sul vostro computer connessi in videoconferenza. Quindi vi chiederemo di rimanere connessi, chiaramente per tutta la durata dell'esame, con la videocamera accesa, in modo che noi possiamo, diciamo così, sorvegliare le persone, sorvegliare voi mentre lavorate. Io in questo momento davanti a me ho la videata di Zoom che mi fa vedere, dunque sono 5 righe per 5 colonne, 25-24 persone, perché sono uno, sono io, più 25 di voi, più 24 di voi, per ogni videata. Quindi l'idea è che ci divideremo probabilmente a gruppi di 20, 22, 23 e quindi ciascuno sarà in una connessione diversa e noi siamo, noi tra docenti, ci sorveglieremo, tra virgolette, ciascuno uno di tre gruppi. Quindi vi diamo il testo, voi sul vostro computer aprite la videoconferenza, vi scaricate il progetto da GitHub e cominciate a lavorare con la connessione aperta. Chiaro che la connessione vedremo la vostra faccia, vediamo un pochino dell'ambiente intorno a voi, ma diciamo così, ciò che ci riserviamo di fare per evitare che voi sul vostro computer facciate cose che non sono permesse, vi potremmo chiedere in qualunque momento di condividere il vostro schermo. Adesso non so se questo lo faremo usando Zoom, usando la virtual classroom, stiamo cercando di capire quali sono gli strumenti migliori, però da un lato appunto noi cerchiamo di verificare che non comunichiate con altri e soprattutto in qualunque momento sappiate che possiamo dire adesso fammi vedere lo schermo, in modo che pensiate a fare l'esame e non pensiate a fare cose diverse. Dopodiché allo scadere del tempo, quindi delle due ore di tempo, dovrete consegnare il lavoro. Adesso per la consegna noi pensiamo di usare uno strumento che si chiama GitHub Classroom, che è integrato dentro GitHub, che permette automaticamente nel momento in cui, diciamo così, ha accettato un esame di scaricare un repository personale con il progetto e quando fate push questo repository viene automaticamente salvato in modo privato in una serie di repository che noi possiamo vedere. E quindi la consegna avverrà a questo punto direttamente da Eclipse facendo un push sul repository. Ovviamente tutta questa modalità di inizio e fine di consegna la dovremo testare, quindi gli ultimi laboratori sicuramente li faremo in questa modalità, così verifichiamo che tutti siano a posto. Quindi sarà anche molto importante la partecipazione agli ultimi laboratori per evitare che poi all'esame uno trovi delle sorprese o dei meccanismi che non conosce. Questa è la parte di scritto di consegna. Poi a questa segue una correzione che come nell'esame normale sarà in due fasi. Una prima fase sarà molto rapida di controllo del codice e quindi uno per uno questi progetti, cioè a questo punto sempre divisi ipoteticamente in tre gruppi da venti. All'interno di ciascun gruppo da venti voi potrete chiaramente decidere se a quel punto lasciare la consegna o ritirarvi. Se lasciate la consegna noi diciamo così, uno per uno facciamo un piccolo orale esattamente come facevamo in laboratorio in cui andiamo a verificare che ciò che avete consegnato funzioni per quanto riguarda il primo esercizio, per quanto riguarda il punto uno. E chiaramente rispetto a ciò che facevamo in laboratorio faremo qualche indagine in più perché non solo ci interessa sapere che il vostro programma funzioni ma anche che l'abbiate fatto voi. E quindi in qualche modo qualche domanda in più sul tipo ma qui che cosa hai scritto? Fammi vedere, spiegami perché hai fatto una certa cosa e così via. Saranno domande chiaramente di... che avranno difficoltà zero ovviamente se l'avete fatto voi perché sicuramente l'avete appena fatto mezz'ora prima ma dovrebbero diciamo così mettere in crisi coloro che hanno preso del codice senza capirlo. Quindi ci sarà questa fase, quindi due ore svolgimento della prova scritta, consegna. Dopodiché in ordine a coloro che diciamo fanno la prossima prova orale prendiamo uno per uno e i vostri programmi li guardiamo. Adesso non abbiamo ancora deciso se il programma lo guardiamo sul nostro computer o sul vostro. Quindi se ce lo scarichiamo noi e lo condividiamo oppure molto più probabilmente vi chiediamo di condividere il desktop e quindi possiamo noi agire sul vostro programma, sul vostro computer. Questo di nuovo sono quegli aspetti tecnici di cui dobbiamo fare ancora degli esperimenti per poter provare. e questo completa la valutazione del primo punto. Questa valutazione vi dà già subito una valutazione che può andare da bocciato fino a 21, 20-21 o 22 dipende, ma normalmente diciamo così 21 la soglia del primo punto. Dopodiché coloro che hanno fatto anche la seconda parte dell'esercizio abbiamo questi punti progetti e ce li valutiamo con calma per dare il punteggio ulteriore del secondo esercizio che va dal 21 fino al 30 lode praticamente. Quest'ultima parte chiaramente non cambia nulla rispetto al passato perché è una valutazione da parte nostra. Quindi ripercorriamo il più fedelmente possibile ciò che vi avevo raccontato o scritto sul sito come regole d'esame del laboratorio. L'unica differenza è che il lavoro lo fate sul vostro computer e non sul computer del laboratorio. Continuate ad avere accesso a tutto il materiale che vi serve. Vedo che Riccardo mi chiede se è consentito l'uso di appunti. Sì, è consentito l'uso di appunti, l'uso di internet, l'uso di GitHub, l'uso di Google, l'uso di Stack Overflow, tutte le informazioni che volete. Ciò che non è consentito è di comunicare tra di voi. Questo ovviamente. E noi lo verifichiamo con questa doppia modalità quindi poter vedere ciò che fate sullo schermo e soprattutto poi all'orale poter verificare che ciò che avete scritto effettivamente l'abbiate compreso. Noi cercheremo anche di darvi cosa che è chiaramente la condizione un pochino più difficile rispetto a quella di un esame fisico in cui uno, se ha un dubbio, può alzare la mano o cose di questo genere. Una delle cose che stiamo pensando è di indicarvi già nell'esercizio un esempio di come dovrebbe venire fuori la soluzione. Quindi magari se ho inserito un certo dato e la soluzione deve venire un certo messaggio ecco vi facciamo vedere un esempio uno o due, adesso vediamo un po'. E poi verificheremo ovviamente noi con altri tipi di esempi, ovviamente dati per verificare che funzioni in tutti i casi e non solamente in quei due casi. Quindi vi aiuta in un certo senso a capire se siete in condizione di consegnare essenzialmente. per evitare, perché diventa difficile soprattutto a distanza avere un programma che è, fatemi dire, molto sbagliato è abbastanza fuori e allora vederlo insieme, discuterelo insieme diventa complicato anche capire cosa avete fatto. In modo che avete voi già un primo filtro diciamo così di precorrezione. se non vi funziona su quei due casi che già vi mettiamo sul testo d'esame non consegnatelo perché tanto sapete che non arriverà al valore minimo. Se poi funziona ma magari il risultato anziché venire 3,9 viene 3,8 vabbè allora vediamo, ecco per carità se sono cose minori magari sono problemini però almeno avete già un primo metro che vi aiuta anche a dire devo andare avanti oppure mi devo fermare. quindi questa è una modalità nuova che stiamo cominciando a pensare proprio per aiutarvi in qualche modo già a capire se state andando bene se siete sulla strada giusta. Sì, essenzialmente è così poi dovremmo trovare un modo anche di poter fare domande durante l'esame in forma privata quindi usando le chat private perché in modo che ci sono alcune cose che potremmo dire diciamo così globalmente sulla chat pubblica ma altre domande magari risposte è giusto che la domanda che fa Tizio non venga sentita dagli altri perché magari è relativa alla soluzione o alla query che sta facendo lui e cose del genere. Però questi sono tutti i dettagli tecnici che cercheremo di inventarci. Io per il momento non credo non credo di usare Respondus che è quella piattaforma che blocca il computer e vi obbliga diciamo così a accenderla a webcam a fare i controlli non allontanarvi dal computer e cose di questo genere. Uno perché è una piattaforma che è pensata soprattutto per esami a quiz. Qua invece con quiz bisogna fare un programma e non ha senso scrivere un programma in una casa di testo. E due perché secondo me è un livello di stress diciamo così aggiuntivo senza dare poi tutta quella sicurezza che nominalmente potrebbe dare. Quindi io diciamo così mi fido di voi non fatemi pentire in certo senso. Diciamo che non ho mai avuto negli anni episodi spiacevoli non delle discussioni spiacevoli con gli studenti spero di non doverle iniziare adesso. Quindi diciamo io in laboratorio ho sempre dato tutta la possibilità di documentazione e chiaramente in laboratorio fisico controllavamo diciamo così meglio possibile che non ci fosse comunicazione tra di voi e qui diventa più difficile controllarlo però come dicevo c'è un orale subito dopo e quindi spero che non ci proviate neanche a consegnare qualche cosa che non è farina del vostro sacco perché altrimenti come si dice in gergo vi sgamiamo alla prima domanda ecco basta quindi da quel punto di vista i requisiti di connettività saranno quelli di mantenere una videoconnessione aperta per due ore possibilmente senza interruzioni e nel frattempo fare push e pull diciamo su Github quando il progetto inizia e viene terminato essenzialmente. Questo è un pochino ciò che abbiamo in mente come dicevo ci mancano ancora bene tutti i dettagli tecnici c'è un'altra possibilità che stiamo valutando di uno e dello stesso tipo ma che prevede di lavorare non sul vostro computer bensì sul computer del live e quindi pare che stiano costruendo una modalità di virtualizzazione dei computer dei live e su cui a questo punto si potrebbero installare i tool che vi servono e voi vi potreste in qualche modo collegare virtualmente a questo pc quindi dentro la vostra finestra del browser vedete il computer del live installato e lavorate lì e questo chiaramente per noi sarebbe una semplificazione perché a quel punto si allinea sicuramente la configurazione software delle varie macchine e diventa anche più facile per noi riuscire a entrare nel vostro computer perché a questo punto è una macchina che gira dentro i laboratori informatici mi fa un pochino paura per l'esigenza di connessione perché magari chi ha una connessione un pochino debole dover lavorare su un desktop remoto di un'altra macchina è sicuramente più lento e poi potrebbe essere più cioè cade la connessione e crea un problema in più e quindi è una modalità che dobbiamo valutare se va bene o no fatemi sapere anche appunto dal vostro punto di vista come siete messi per capire se una cosa può andare o no è chiaro che risolve alcuni problemi del tipo a questo punto siamo sicuri che Eclipse la libreria eccetera tutto funzioni perché è già preconfigurato in laboratorio a differenza del vostro computer che c'è magari il tizio che ha il computer più vecchio oppure non gli funziona Eclipse o Java perché non ha installato la versione giusta ecco questo per questo mi raccomando sempre dei vari laboratori di farli veramente su vostro computer anche una verifica che voi abbiate l'ambiente software di programmazione adatto quindi questa grossomodo è la situazione quindi pensate un attimo a come potrebbe svolgersi e poi eventualmente o adesso o più avanti mi fate avere delle osservazioni noi stiamo andando avanti a progettarlo in questo senso sulle date degli esami che mi chiede Valeria da quanto ne so dovrebbero uscire pubblicate sul portale visibili ai docenti il 4 quindi lunedì e dopo qualche giorno quindi qualche giorno per cui ci possono essere dei piccoli aggiustamenti delle correzioni eccetera eccetera potrebbero cioè dovrebbero essere poi rese disponibili credo la settimana successiva quindi 10 e 11 maggio visibili per tutti io avevo visto un file tempo fa ma questo cioè si trattava probabilmente di gennaio e febbraio con delle ipotesi di date ma non credo che sia più vario nel senso che credo che le stiano riprogettando tenendo conto di è stato fatto quel calendario prima prima che succedesse tutto che infatti non mi erano neanche salvate queste date so che se non sbaglio erano date abbastanza avanti no? quindi c'era un buon tempo tra la fine dei corsi e l'inizio dell'esame però questo al momento non ho informazione su qualsiasi giorno che sarà proposto che verrà pubblicato come dicevo probabilmente il 4 quindi lunedì prossimo riusciremo noi docenti a vederlo quindi la prossima settimana quando ci vediamo martedì prossimo posso darvi delle anticipazioni chiaramente ancora non definitive quindi potrebbero occorrerci degli aggiustamenti ma perlomeno poterci organizzare un pochino in grandi linee ecco l'unica cosa sui tempi per potervi organizzare ovviamente dipende da quanti si scriveranno gli appelli però la nostra idea è di riuscire a fare in un turno d'esame circa 60 persone come vi dicevo noi siamo tra docenti 20 20 20 3 videochiamate diverse e a valle di questo la correzione di questi 20 persone magari saranno meno di 20 perché qualcuno si è ritirato facciamo gli ottimisti diciamo 20 questo impiegerà un certo tempo nel senso che sono due ore per lo scritto più probabilmente tra quattro ore per l'orale perché dovendo vedere 20 persone facendo una domanda guardando il codice se funziona forse tre ore è troppo ma altre due probabilmente sono sufficienti cioè sono necessarie allora questo vuol dire che probabilmente mezza giornata intera ci vorrà per 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 un turno di 60 studenti questo vorrà dire che probabilmente il giorno dell'appello faremo un grosso turno al mattino un grosso turno al pomeriggio e quindi sono 60 più 60 120 dovremo riuscire con questi numeri a coprire tutti normalmente il primo appello avevamo un numero di scritti di questo genere qua se non fosse se fosse di più se i numeri fossero più grandi probabilmente si deve andare su due giorni quindi attenzione che la data dell'appello che uscirà ci sarà scritto il tal giorno alle 10.30 o alle 11 ecco il giorno è quello ma l'ora no perché l'ora dobbiamo chiaramente impegnare l'intera giornata dividere i due turni primo e secondo turno e i turni divisi in classi e poi fargli diciamo così il calendario per gli orali eccetera eccetera saranno giornate pesantissime per tutti noi e voi però tenetelo solo presente cioè quello che quando uscirà la data quello che fa fede è il giorno e tenetevi liberi per il giorno intero noi poi qualche giorno prima ovviamente comunicheremo le divisioni in turni in macro turni sui due macro turni mattino e pomeriggio ovviamente daremo dei compiti che sono completamente diversi che proprio lavoreranno con database diversi eccetera eccetera per evitare ogni tipo di comunicazione che ci possa essere diciamo tra chi ha già fatto l'esame e chi lo deve ancora fare quindi può questo allora veniamo un po' alle altre domande penso che sull'esame non abbia altro che già conosco e che non vi abbia detto allora vediamo le domande Federico mi chiede per una domanda riguardo la classe entry point che usiamo sempre nei nostri progetti è stata un laboratorio 7 e la classe è stata un po' modificata in particolare sembra non venga creato un controller anche se stanno nel programma sempre esiste un controller collegato non riesco a capire in questo caso come settare il modello allora vediamo un attimo il codice secondo me è solo una questione di un codice che non è completo mancava un'istruzione allora fatemi condividere lo schermo che è questo ecco qua vediamo la chat schermo allora laboratorio 7 tdp 2020 laboratorio 7 ok allora questo è l'entry point del laboratorio 7 che effettivamente non estrae il controller quindi si mancano quelle due istruzioni cioè il controller ecco l'unica appunto che volevo fare a ciò che lo scrive Federico è che non è vero che il controller non viene creato il controller viene creato dal fxml loader quindi poiché dentro la scena appunto fxml è indicata una classe controller il controller viene creato e viene inizializzato quindi è fatta la new della classe controller e viene fatta viene chiamato il metodo init poi giustamente Federico dice però se io ho un model e lo voglio comunicare al controller nel main come posso fare e giustamente quello che dici tu è corretto devo aggiungere quelle due istruzioni che estraggono il controller dall'fxml loader e poi gli passano il modello come viene fatto negli altri laboratori quindi di fatto qui è stato se vogliamo un'epsio di pigrizia in più da parte nostra nel non scrivere quelle due istruzioni ma sicuramente servono il controller però esiste comunque non siamo noi che lo dobbiamo creare ma è il loader che lo crea sulla base di ciò che c'è scritto dentro l'fxml semplicemente noi non avendo accesso al controller qua in questo main non abbiamo la possibilità di passargli il model e questo è il motivo per cui negli altri laboratori c'è una coeduzione in più che è giusto e corretto aggiungere assolutamente sì e avrete probabilmente notato che già da questo laboratorio se non sbaglio viene modificata la classe connectdb usando la configurazione dell'e-carry data source che se avete fatto le cose bene non non impatta per nulla il modo in cui realizzate il DAO perché dovete comunque sempre chiamare una get connection della classe connectdb odb connect abbiamo un po' di laboratori che la chiamano in un modo e un po' nell'altro chiedo scusa e quindi la prima volta vedete il data source uguale null la prima volta che viene chiamato il get connection viene creata la data source se invece non è null quindi questa data source che è una proprietà statica della classe connectdb è già stata creata in passato allora semplicemente viene questo metodo get connection viene delegato delega direttamente a data source punto get connection questa istruzione chiave qua sotto quindi quando voi chiamate da questo laboratorio in avanti se usate questa classe di connessione la get connection della connectdb normalmente viene delegata alla get connection non più di driver manager bensì di data source il data source il quale la prima volta che chiamano get connection viene inizializzata ecco questo ricordiamoci dobbiamo fare una volta sola questa inizializzazione soprattutto questa istruzione qua perché questa è quella che apre le n connessioni se lo facessimo ogni volta peggioreremo le cose perché anziché aprire una connessione ogni volta apriremo 10 connessioni ogni volta che ovviamente non è assolutamente quello che vogliamo quindi questo if e il fatto che questo data source sia una variable statica quindi viene ricordata da una chiamata all'altra è quello che ci garantisce di creare la connessione la prima volta e poi riusare sempre il pool il metodo del DAO chiamano get connection tranquillamente e ottengono in prestito una connessione e poi faranno connection.close e ricordiamoci di farlo connection.close perché questo è il modo per dire al data source questa connessione non mi serve più riprenditela pure quindi adesso in avanti se volete anche chi di voi aveva dei problemi nei laboratori precedenti perché gli dava gli errori su troppe query il sistema operativo non ce la faceva gestire tutte le connessioni se voi provate a prendere questo copiarlo questa classe e copiarlo nei progetti precedenti dovreste vedere che è tutto uno più veloce e due non da più questi problemi allora poi sempre Federico mi segnala che ci sono degli errori con il login fail to load class static log bind reforzitum operation log implementation questo qui non ha a che vedere con la configurazione di Icar adesso questo lo dobbiamo allora questi quella libreria slf4j è in realtà dovremmo provare il programma se se c'è tutto nelle librerie questi sono i warning che Federico mi segnala che essenzialmente sono emessi dalla libreria di login simple login for java simple login facade for java e questa è fatta di due parti la prima parte è la libreria slf4j che di fatto contiene i metodi di interfaccia e poi una parte di implementazione a quanto pare qui sembra che non trovi la seconda parte di implementazione quindi sembra più un problema di librerie caricate nel progetto che dovremmo a questo punto verificare se ci sono tutte se capita se anche altri hanno questo problema è un problema nostro diciamo così di come abbiamo inizializzato il progetto dovrebbe essere qua nel classpath ci sono tutte le informazioni sul pom scusate stavo guardando lpom specifica slf4j api sl4j simple quindi in realtà dovrebbe riuscire a trovare sl4j simple e non capisco molto perché vado a cercare invece lo static logger questo lo verifichiamo e quindi compaiono anche ad altri allora a questo punto proviamo ad eseguirlo questo è di solito cioè non sono errori bloccanti semplicemente dicono attenzione che facendo così i messaggi di log non compariono perché la libreria di logging defaulti to no operation logger implementation quindi non ti dà errore quando tu chiami il metodo logger.info di fatto noi non stiamo usando lo sta usando la libreria Icari quindi normalmente scriverebbe dei messaggi o aperto connessioni di questo genere non iscrive questi messaggi perché vanno vengono persi praticamente e quindi cercare di capire soprattutto dal punto di vista della configurazione del progetto può darsi che ci sia qualche allora riprendiamo qua se avete un attimo di pazienza prendiamo e vediamo insieme la vostra 27 clona da qui importo nuovo progetto da lab 7 va bene master lo mettiamo dall'altra parte dove c'è workspace qua ok Federico dice che gli compaiono solamente dopo che abbiamo diventato in 3 point ma semplicemente perché prima non chiamavi nessun metodo del DAO probabilmente e quindi allora lab 7 power out eccolo qua il progetto quindi la cosa migliore visto che è legato al logging potremmo direttamente fare questo test DAO che dovrebbe già dirci essenzialmente tutto devo prima caricare ovviamente il database perché non credo di averlo caricato su questo pc ecco alcuni hanno avuto problemi a trovare il database perché in realtà non non viene non si trova non si vede direttamente qua nel progetto in realtà come si vede da GitHub il file SQL c'è nel progetto GitHub e poi il progetto Eclipse è dentro al progetto GitHub quindi Eclipse vi fa vedere ciò che c'è da qui in avanti da questa cartella in avanti quindi ve la fa vedere dentro le sue cartelle ciò che sta fuori quindi il pdf l'immagine del database e le SQL stanno fuori dal progetto Eclipse ma sul vostro computer ci sono tranquillamente quindi se voi andate ad esempio a vedere mostra in System Explorer sul progetto vi apre la cartella dove c'è il progetto e vedete che questa è la cartella dove c'è il progetto e qui a fianco ci sono gli altri file se avete difficoltà a trovarli dentro Eclipse non li vedete perché sono dentro diciamo così il reposito di GitHub ma non dentro il progetto Eclipse allora torniamo a ID che nel frattempo si è aperto e importiamo eccolo qua questo file esegui file SQL workspace laboratorio 7 power out lo sta facendo l'ha fatto si eccolo qua l'ha fatto power out ce l'abbiamo esatto ok allora a questo punto da Eclipse proviamo a eseguire il test DAO visto che è appunto un problema di database non dovrebbe servire lanciare l'interfaccia grafica e quindi eseguiamolo e come mi avete segnalato non che non ci credessi ma esattamente compaiono questi messaggi allora questo nonostante nelle dipendenze ci sia sl4 simple anche se con un'icona un pochino più brutta un pochino più grigia che non capisco cosa non so che cosa intenda dire quindi è possibile che lui non trovi per qualche motivo questa libreria quindi questo qua dobbiamo andare a verificarlo nel build path dunque build path questa libreria la dovrebbe trovare allora order next librerie dipendenze maven eccolo qua questo lo dobbiamo verificare nel senso che il messaggio di errore è dovuto al fatto che lui non trova questa libreria che abbiamo messo in realtà c'è questa icona appunto di colore più grigio che non ho presente al momento che cosa significhi e allora lui dice poiché non trovo questa libreria non trovo nulla a cui appoggiarmi per fare il logging per default non faccio il logging punto e basta ok quindi questo è il problema diciamo di configurazione di maven che cercheremo di risolvere non impatta il funzionamento del programma ma sicuramente è un problema che dovremo risolvere quindi grazie di averci segnalato cercheremo di capire perché e soprattutto cosa vuol dire questa cosina qua che è grigia rispetto alle altre qui sembra che la trovi social location qui ci sono i sorgenti però però dove si trova la libreria non te lo dice vabbè niente non vi faccio perdere tempo adesso e cerchiamo di capire meglio eventualmente di aggiornare il progetto ma normalmente qui dovrebbero essere dei messaggi della libreria Icari che vi dice inizializzata la connessione aperte tot connessione verso il database sono messaggi informativi che vengono stampati ogni volta e questi vengono stampati la prima volta che chiamate la get connection che è quella che fa inizializzare il data source ok quindi questo qua me lo segno che dobbiamo guardarlo e risolverlo poi altre domande quindi quindi sì anche chi diceva che lo stesso problema capitava in Grazola a questo punto direi che capita in tutti i problemi in tutti gli esercizi in cui c'è questa configurazione di Maven e c'è la la libreria di Icari allora invece l'altra domanda di Francesco è è relativa al fatto che il result set venga anche chiuso allora normalmente allora sarebbe sempre buona norma nel momento nel momento in cui acquisisco una risorsa chiuderla automaticamente cioè chiuderla manualmente dire al sistema che questa risorsa non mi serve più normalmente quando eseguo una query quindi mi restituisci un result set questo result set rimane diciamo così in memoria dentro il database perché il database pensa che io posso averne bisogno e quindi io posso farmi il mio while while next risal set punto next scandisco tutti i risultati ma anche quando arrivo al fondo il database questo set lo mantiene in memoria lo mantiene memorizzato perché nessuno mi vieterebbe che riprendere il cursore farlo tornare indietro ripartire dal primo elemento rileggere i dati perché è chiaramente permesso quindi fin tanto che il result set è aperto sto dicendo il database senti questo risultato di questa qui ritienilo quando io faccio il result set punto close sto dicendo al database ok questo risultato non mi serve più prometto che non lo userò più e quindi puoi liberare quei dati quindi se vogliamo diciamo così è buona norma dire al database questo non mi serve più così limitiamo riduciamo la quantità soprattutto di memoria che MariaDB il database non il nostro programma il nostro programma non cambia nulla al database invece risparmia un pochino di memoria in realtà quando chiamo connection punto close automaticamente tutti gli statement che sono inseriti in quella connessione vengono automaticamente chiusi quindi il fatto di fare real set punto close è particolarmente importante quando nella stessa connection faccio tante query diverse e allora ok ho fatto una query ho analizzato i risultati chiudo quel real set e faccio un'altra query che mi darà un nuovo result set e così via se invece come facciamo noi in una in una connessione facciamo una query massimo due veloci poi chiudiamo la connessione quindi quando facciamo connection punto close la connection punto close si porta dietro ovviamente anche la chiusura di tutti gli statement che quella connessione vi ha generato quindi in questo caso non è non è così indispensabile diciamo se volete scrivere il codice pulito ben venga chiudere anche il result set il database vi ringrazia ma altrimenti se non chiudiamo il result set subito dopo chiudiamo la connessione connection punto close che poi nel caso del 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 data source non è una vera chiusura della connessione perché semplicemente restituirla al pool però l'operazione esplicitamente di chiusura della connessione fa chiudere anche i vari result set quindi in questo caso non è non è necessario farlo ecco viene fatto diciamo automaticamente dal connection punto close di chiusura Altre domande? Allora, c'è una domanda di Riccardo, che adesso vi copio. Che ci chiede? Se sia bene nella scelta delle strutture dati, usare sempre set, eccetto quando richiesto l'ordinamento, in questo caso preferire un array list. Allora, la risposta è questa, che vale, diciamo così, metà dell'ingegneria. La risposta dipende. Quindi fatevi sempre, diciamo, cercate di non imparare delle regole troppo rigide perché va valutato poi di caso in caso. Il set va bene quando devo avere ovviamente degli elementi unici e voglio iterare in un ordine arbitrario. Il set ha un grosso difetto, è che io non posso ottenere un argomento, un elemento. Quindi io posso avere set.contains di elemento, che mi dice sì o no. Però se voglio avere l'oggetto che è contenuto in quel set, non me lo dà. Non c'è un get nel set. E questo potrebbe essere un problema se all'interno di questo set ci memorizzo degli oggetti complessi. di cui magari io, immaginiamo, ricordate di quello che abbiamo detto in una lezione a proposito del DAO. Io ho un oggetto che ha come chiave primaria, come hash code, la chiave primaria della tabella. Quindi magari un paio di campi. Però gli altri campi sono campi a corredo. Quindi se io avessi, facciamo il caso dello studente, no? Se io avessi un set di studente, questo set sarebbe indicizzato, quindi usa, hash code, userà, equals, useranno la matricola. Quindi, conoscendo la matricola, io potrò sapere se quella matricola è nell'insieme oppure no. Ma poi non posso da lì ritrovare il nome e cognome, perché non posso trovare l'elemento. Quindi va bene se devo memorizzare gli elementi che di fatto coincidono, diciamo così, è perfetto se l'intero oggetto coincide con la sua chiave. Allora qui è perfetto il set. Allora, semplicemente vuol dire che l'oggetto ce l'ho o non ce l'ho, lo metto di dentro e evito di, diciamo così, i duplicati. Oppure se devo sempre, cioè se ogni volta che ho bisogno di quei dati, devo analizzarli tutti. Allora faccio un'iterazione e va benissimo. So che non posso controllare l'ordine di questa iterazione, ma non è un problema. Se invece voglio usare quella struttura dati per recuperare, per memorizzare oggetti complessi e recuperarli, allora il set non va bene. Allora in quel caso posso avere, come dicevi tu Riccardo, posso avere delle liste oppure delle mappe. Allora in questo caso magari uno potrebbe avere una mappa da integer, che sarebbe la matricola, a studente, dove riesce a avere il meglio dei due mondi, nel senso che riesco a avere, attraverso la chiave mappa, evitare di avere dei duplicati perché ogni chiave può comparire una volta sola in una struttura mappa, ma poi una volta che ho la matricola posso ritrovare tutti i dati dello studente. Quindi alla fine una mappa è una combinazione tra un insieme, un set e dei dati accessori, che sono l'oggetto completo. Un po' come avevamo fatto per Identity Map in certo senso, dove avevamo una struttura dati che molto rapidamente poteva, uno, dirmi se un elemento esisteva già, e due, se c'è, dammi i dati a corredo, i dati aggiuntivi. Quindi, in questo caso, facciamo così, c'è questa, in funzione dell'uso che ne facciamo, insieme, mappe o liste, chiaramente, ovviamente posso anche usare una lista, però in questo caso se devo fare una ricerca, studente, se devo fare, la lista ha il vantaggio che ovviamente mi mantiene i dati ordinati, ma se devo fare una ricerca di un elemento, questa ricerca è più costosa, ovviamente perché la lista va scandita da sinistra verso destra, dal primo elemento verso l'ultimo. Molto spesso quello che si fa è magari fare entrambe le cose, cioè una mappa e una lista. La mappa per l'accesso diretto, conoscendo la chiave, in questo caso la matricola, la lista per l'accesso ordinato, quindi puoi conoscere la settima posizione, la quarta posizione, oppure, diciamo così, scandirli in ordine. Mentre la mappa ovviamente mi può dare i values, ma appunto values mi dà l'elenco di tutti i valori, ma me li dà disordinati, perché mi dà di fatto in ordine di hash code. Quale è meglio dipende dai casi, dipende dalle operazioni che ci devi fare sopra. Quindi ciò che ti dà l'unicità ovviamente è il set o la mappa. In questo caso il fatto che si basano sull'equals e sull'ash code ti dà la certezza che non inserirai mai elementi duplicati. Ciò che ti dà l'ordine o la possibilità di riprire i dati sono le liste e le mappe. E poi ce li si gioca, sinceramente. Dopodiché, Federico mi chiede se faremo esercizi più nel dettaglio sull'attuazione del pattano RM. Allora, non faremo esercizi specifici sull'RM, perché sarebbero anche particolarmente noiosi, ma da adesso in avanti quando faremo degli esercizi troveremo dei dataset anche più complessi, ovviamente ne dovremo tener conto. Ad esempio, anche solo questo Powered Outages, che è il laboratorio 7, contiene diverse tabelle. Allora noi ci dobbiamo chiedere, va bene, ma allora come faccio a rappresentare queste tabelle? Primo mi chiedo quali dati effettivamente mi servono. perché non sono obbligato a rappresentare tutto, tutte le tabelle e tutti i dati di tutte le tabelle. Quindi prima di tutto mi chiedo, di queste sei tabelle quali mi servono? Ok, una volta che ho capito in questo esercizio quali mi servono, mi creerò l'oggetto all'interno del model, l'oggetto che lo rappresenta. Quindi qua, mi pare che nel model ci fosse già un oggetto NERC, che è quello principale per questo esercizio, e allora questo oggetto ovviamente è stato creato scegliendo, in questo caso, due attributi ID e VALUE, che sono esattamente i due attributi della tabella. Quindi abbiamo usato, diciamo così, le regolette di ORM, quelle semplici, per le tabelle semplici, all'interno del nostro model. E quindi, ricordiamo, partiamo sempre dal basso. Capisco se una determinata tabella mi serve, se una determinata relazione mi serve, se mi serve, creo l'oggetto corrispondente. Allora, le regole dell'ORM ci aiutano essenzialmente a darci una linea guida su come creare questo tipo di oggetto. Quindi, come dicevo, non faremo esercizi specifici, ma useremo questi criteri tutte le volte che in un esercizio avremo un database, compito in una tabella, e quindi dovremo creare i vari oggetti corrispondenti alle tabelle, ovviamente, sempre ricordandoci, non facciamolo tutti a tappeto, facciamo solo quelli che si servono. Eventualmente, se fossero le tabelle, mi pare che non sia... Ebbè, questa qui, ad esempio, ha molti campi, magari non ci servono tutti, quindi nessuno ci obbliga, soprattutto quando uno ha il tempo limitato, a rappresentare tutti i campi possibili e immaginabili. Quindi potremmo anche pensare di avere un oggetto che rappresenta solamente un sottoinsieme. Le regole sono fatte per essere interpretate, non per essere, diciamo così, seguite beceramente. Noi sappiamo come creare, ad esempio, nel caso di Powered Outages, un oggetto che rappresenta un singolo Powered Outage con tutti questi attributi. Chiaramente, molti di questi attributi sono delle chiavi esterne. Ad esempio, Tag ID rappresenta un ID che corrisponde al tag. NERC ID, allora qui entra in gioco la progettazione ORM, dove questo Tag ID è un numero, allora se io dovessi creare la classe Powered Outages, dovrei rappresentare ovviamente l'ID come intero. Poi questo Event Type ID, partiamo da questo, nel database ce l'ho come intero, ma io ho anche un oggetto Event Type. Quindi per essere, prendiamo, potrei avere la mia classe Powered Outages, dove sicuramente avrò Private Int ID, e quello su ID, che questo sarà usato anche per REST CALL EQUALS, perché lui è l'identificatore. Poi abbiamo la seconda colonna che è Event Type ID. Allora questa colonna si chiama Event Underscore Type Underscore D, allora in Java noi tenderemo a chiamarla Event Type ID, col camel case, e la possiamo rappresentare come Private Int, anche lei. Meglio, però, visto che questo è un identificativo numerico che fa riferimento a un oggetto di un'altra tabella, definirlo direttamente come Event Type. Event Type esterno, perché avremo sicuramente l'altra tabella Event Type che ha i suoi ID e i suoi campi. Quindi dentro Powered Outages potremmo definire un riferimento al tipo di evento, ad esempio, così. Allora, queste sono tre modi diversi. Potremmo avere solamente, decidere, di avere solamente l'ID, possiamo decidere di avere solamente l'Event Type oppure decidere di avere tutti e tre. Il più pigro è avere solamente l'ID. Quando leggo la tabella mi da l'ID o l'ID e ho finito, lo salvo. Ovviamente, quando poi vorrò avere, ad esempio, per stampare questo maledetto evento, che cosa è stato? Che sia, che mancava benzina, ad esempio, nei distributori oppure, se è stato un attacco di vandalismo, devo stampare questo messaggio e dovrò fare un'altra query che dall'ID numerico mi vada a prendere quell'oggetto. Se però, magari, io l'elenco degli event type ce l'ho già, questo elenco degli event type ce l'ho già, allora avrò già da qualche parte una lista di event type. Meglio ancora, un ID map di event type. Una mappa, barra una lista o entrambe. Allora, a questo punto, nel mio oggetto DAO, quando creo Powered Outages, vado a consultare questa lista collection di event type, trovo quello giusto e nel mio oggetto Powered Outage già direttamente metto il riferimento a quell'oggetto. Dove a questo punto l'ID, diciamo che non mi serve più, perché una volta che ho riferimento all'oggetto, l'ID lo posso andare a prendere all'oggetto. Quindi farò, più avanti nel mio codice, farò l'outage punto event type get event type punto get ID se mi serve l'ID oppure farò outage punto get event type punto get la descrizione si chiamava value e a questo punto avrò il messaggio descrizione testuale. Quindi questa è l'applicazione pratica di quella regola che diceva è una relazione con cardinalità 1 o un oggetto power outage che punta a un oggetto di tipo event type. Allora, in questo caso vuol dire che nel DAO che crea il power outage dovrò fare un'operazione in più. Cioè una volta che ho di numerico semplicemente non lo vado a memorizzare direttamente in questo campo ma vado a cercare per quello che dicevo che è più comodo avere un identity map perché nella mappa mi da già direttamente l'oggetto che mi serve. E quindi all'interno del DAO scriverò qualche cosa del tipo result set punto get int della colonna che si chiama event event type underscore id una volta che ho questo numero intero devo trovare l'event type corrispondente e quindi avrò una collection che si chiamerà event types ma una mappa probabilmente get parola cosa di questo genere cioè dal database chiedo l'intero e poi alla mia mappa che contiene gli oggetti event types interrogo la mappa per sapere a questo id numerico che oggetto corrisponde e questo qua diventerà ovviamente il valore di questo event type e lo posso memorizzare così quindi faccio un pochino più di lavoro quando carico nel DAO ma a quel punto non devo più perché se avessi solamente l'id devo sperare di non avere mai bisogno di stampare il messaggio altrimenti ogni volta dovrò fare la query questo richiede ovviamente che io abbia preventivamente uno costruito un id map e due anzi uno fatto la query per attenere tutti gli event types e due messo costoro all'interno di un id map o di una lista ma a questo punto sarebbe poco efficiente averli in una lista e interrogare la lista per contenuto è un po' di lavoro in più valutiamo se vale la pena nel senso che se questo messaggio dobbiamo scrivere una volta sola nel nostro programma a quel punto ci giochiamo ci facciamo una query e abbiamo finito lì se invece ci accorgiamo che questo l'informazione collaterale che ho dentro perché rifaccio il ragionamento io ho una tabella che mi descrive Powered Outages questa Powered Outages ha delle informazioni sue interne tipo Customers Date Begin Date Finished e delle informazioni che sono in tabelle collegate allora le informazioni nelle tabelle collegate mi servono mi servono frequentemente se sì allora ha senso impostare tutto questo meccanismo quindi farti la collection l'id map della tabella collegata e all'interno della tabella Powered Outages vado a mettere riferimento all'oggetto in caso contrario ho chi me lo fa fare memorizzo l'id e lo lascio lì se non devo stampare i dati o se non devo farlo molto frequentemente lavoro di meno quindi le regole le abbiamo per costruire diciamo così il sistema completo però se prendete un database come questo e volete costruire tutte le relazioni ci perdete veramente due ore a far tutto tutte le id map per ogni tabella il look up dei valori per ogni tabella eccetera eccetera e poi magari non vale la pena perché non lo usate allora se fosse un model che sapete di riusare più volte allora vale la pena di investire altrimenti cerchiamo sempre di andare in questo solco ma poi andare solamente fino al punto in cui ci serve quindi questo è un po' ragionamento che in tutti gli esercizi da adesso in avanti dovremmo fare tenendo conto quelle linee guida semente ci dicono essenzialmente come costruire questi oggetti dare i nomi come memorizzare le relazioni eccetera eccetera se vogliamo poi di nuovo questa operazione qua potrebbe essere un'operazione lazy in cui memorizzo solamente l'id e poi solo la prima volta posso andare a farla qui di memorizzare il valore oppure eager come abbiamo definito nelle slide cioè io in anticipo comincio già a leggermi tutti non si sa mai e me li leggo tutti e allora vuol dire che li ho già le sfumature sono veramente moltissime non c'è una regola unica ma perlomeno sappiamo quando lo vogliamo fare come approcciarci l'idmap ce l'ho già nel model la passo come argomento al DAO sì questa idmap quindi in questo quadro noi abbiamo pensato che event types sarà una mappa che parte da integer e da integer virgoli event type che viene creata nel model e passata al DAO come parametro aggiuntivo esisterebbe un'altra possibilità ma a me non piace la metto tra parentesi potrebbe essere una variabile statica del DAO nel senso che potrebbe essere una variabile che il DAO si gestisce per se stesso in un certo senso serve a lui questa come si chiama identity map quindi se la potrebbe gestire tutte le volte che fa una query si salva i dati e poi quando dovrà costruire degli oggetti le riperirà questi dati a me questa seconda versione non piace moltissimo perché l'identity map potrebbe essere anche molto utile al model e allora non ha senso che il model usi una variabile interna del DAO e quindi ovviamente se è nel DAO deve essere statica perché il DAO ogni volta lo sto creo lo distruggo e quando lo lo ricreo ripartirebbe vuota da nulle quindi non avrebbe nessun valore invece statica nel senso che viene memorizzata nella classe DAO non nell'oggetto DAO e quindi dopo che l'ho fatto la prima volta rimane però a me questa seconda soluzione piace abbastanza poco quindi preferisco passare un parametro in più così è esplicito che il model uno ha la responsabilità di crearla lui quella identity map e far sì che la query per popolarla venga effettuata e poi a questo punto sa che chiamando i metodi del DAO quella identità viene usata perché te la passo semplicemente quindi vuol dire che tu la usi e vuol dire che mi restituisci dagli oggetti è molto più esplicito proclamarlo in questo modo ok allora qui c'è un'altra domanda con un argomento completamente diverso sul binding di cui vi avevo forse accennato ma per non più di dieci secondi in una delle primissime lezioni e poi non l'abbiamo più approfondito allora questo è un meccanismo molto potente è un meccanismo molto potente che ci permette di collegare direttamente un campo dell'interfaccia utente a una variabile del model quindi tutte le volte che modifichiamo quella variabile del model in automatico senza dover fare nessun lavoro quell'elemento dell'interfaccia utente viene aggiornato e viceversa al contrario possiamo fare un binding dall'interfaccia verso il model e questo richiede che le varie proprietà degli oggetti vengano definite come properties quindi con tre metodi di accesso diversamente delle proprietà normali allora noi normalmente nel tipo di esercizi che facciamo sia nei laboratori sia nei durante l'esame non abbiamo interfaccia utente tremendamente interattive per cui ci sono molti elementi che cambiano dinamicamente quindi tu devi aggiornare continuamente tante cose e viceversa e quindi il binding non è particolarmente utile in un certo senso e quindi di fatto non viene approfondito molto durante il corso se però invece vi trovaste a fare qualche interfaccia un pochino più completa più complessa anche più interattiva allora effettivamente torna molto utile perché evita di registrare tanti event handler e andare a mettere a posto tante informazioni quando queste si possono propagare in modo automatico allora una cosa che potrei fare diciamo così per soddisfare entrambe le versioni potrei farvi prepararvi un video diciamo così di una lezione diciamo opzionale in cui vi racconta un po' meglio come funziona questo meccanismo così chi vuole chi è interessato se lo va a vedere con un'introduzione poi ovviamente c'è tutta la documentazione da studiarsi ma almeno c'è un'introduzione facile diciamo così di primo approccio con qualche esempio e poi se volete lo potete utilizzare anche poi nei vostri esercizi però non lo carico non lo inserisco diciamo così nel programma del corso ufficiale quindi da questo punto di vista mi devo ricordare quindi farò una lezione opzionale sul binding nella prossima settimana e sicuramente se abbiamo interfacce con tanti elementi e questi cambiano molto spesso conviene molto conviene molto dal punto di vista proprio della facilità di programmazione dichiari una volta sola che queste due cose devono rimanere collegate e fine e più in realtà c'è tutta una complessità in cui puoi anche non solamente dire che questo è un'introduzione mostra un certo valore ma puoi fare anche delle operazioni di confronto operazioni aritmetiche eccetera su questi dati che vengono calcolati in automatico ogni volta che un dato di partenza cambia quindi il framework dei binding è abbastanza complesso e quindi sì però appunto per i programmi che facciamo in cui inseriscono i dati schiacci un bottone e calcolano il risultato non è molto utile va bene se mi dimentico ricordatemelo ok ok l'interfaccia creeremo noi oppure se la già fornita come negli ultimi laboratori mi chiede qualcuno che si chiama con la la creeremo noi poi se la fornita normalmente viene già fornita l'fxml è già è già compreso solitamente è già compreso nel progetto base questo non vuol dire che voi non dobbiate eventualmente aggiungere degli event handler aggiungere degli id su quell'fxml perché magari appunto vi serve qualche cosina in più però perlomeno la parte grafica ve la diamo già fatta per non farvi perdere tempo durante l'esame in modo che l'esame vi possiate concentrare sul controller e sul model quindi normalmente diciamo così nel progetto base dell'esame vi trovate già fatti entry point eventualmente da modificare se dovete aggiungere il model se dovete impostare le variabili creare qualche cosa l'fxml che quasi sempre non è da modificare vi trovate già la connect tb sono già fatte e di solito molto spesso uno scheletro di dao in modo che possiate subito questo ci serve con un metodo molto cretino tipo leggi tutti i dati o cose di questo genere questo ci serve perché così una volta che avete creato il programma potete subito testare il dao la connessione sul database con già un metodo diciamo così di base ed eventualmente una o più classi del model le classi usate le classi DTO o quel che abbiamo chiamato DTO quindi classi contenitori di dati come avete visto in questo caso c'era già la classe NERC nel model nel package model poi magari dovete creare altre magari come è implementata questa classe magari da modificare arricchire vediamo già qualche scheletro di base questo da un lato per cose tutte cose banali ovviamente da un lato vi velocizza nell'implementazione dall'altro un pochino standardizza anche i nomi delle variabili come si chiamano i campi dell'interfaccia così diventa anche più facile per noi correggere perché sappiamo già come si chiamano i vari pezzettini mentre invece non vi forniamo di solito la classe model se c'è una classe vuota vabbè ovviamente lo scheletro di controller con nessun metodo implementato quindi solamente quello che salta fuori dallo sim builder che potreste benissimo fare copia e colla ricordatevi che se modificate l'fxml dovete rigenerare lo scheletro del controller perché magari cambiate i nomi oppure aggiungete degli elementi tutto il resto invece lo fate voi ovviamente scusate l'esquale database ecco l'esquale database nell'ultimo anno abbiamo preso un'abitudine che secondo me è sana di dirvi prima quale sarà il database quindi il uno o due giorni prima quando si chiudono le iscrizioni vi diremo già guarda in quell'appello il database utilizzato sarà questo così potete già soprattutto a maggior ragione adesso che lavorerete sul vostro computer potete già scaricarvelo installarvelo e anche studiarvelo un pochino prima quindi questo qua verrà anche comunicato un due giorni prima e quindi potete già predisporlo e caricarvelo sulla vostra copia di MariaDB c'è anche nel progetto ma ce l'avrete anche lo potete già scaricare prima i prossimi giorni poi dovremo riuscire a pubblicare anche il video della soluzione del laboratorio 6 nel senso che abbiamo fatto già due giri di revisione col borsista dovrebbe essere pronta per la pubblicazione così poi possiamo procedere un'altra parte di revisione a cura di QTSS e di revisione a cura di QTSS Ok, ci sono altre domande? Dei pensieri, delle reazioni sulla modalità d'esame che vi ho raccontato all'inizio? Intraverte delle difficoltà? Oltre ovviamente a sapere le cose che servono, ma quelle... Lì sono, io mi porto a capo. Riccardo infatti ci dice che sul destra modo potrebbero esserci problemi di linea, problemi di connessione. E per quello che io cercavo appunto, è chiaro che la connessione è obbligatoria, cerchiamo di mantenerla in modo che appunto la... Senza una connessione video veramente non siamo in grado di capire minimamente cosa state facendo, quindi diventa... Un minimo dobbiamo riuscire anche con una risoluzione limitata, una banda limitata, dobbiamo cercare di riuscire a tenerla in piedi. Se poi ci saranno delle piccole disconnessioni, si pianta, lo riavviate, questo chiaramente è un fattore di stress, però chiaramente se uno si scollega e si ricollega dopo 30 secondi non è un problema, ecco dal punto di vista. E' chiaro che se si vede che invece la cosa si ripete o è sospetta, ricordiamoci sempre che c'è subito dopo l'orale, ecco. Quindi io vorrei evitare di invalidare un esame per problemi tecnici, i problemi tecnici cerchiamo di gestirli, ecco. Può capitare qualcosa, speriamo che siano limitati, ecco in certo senso. Noi cercheremo di trovare una soluzione se esiste, perché a me quella mi interessa di più, non tanto vedere cosa fate in faccia, sì, ma anche vedere cosa fate sullo schermo, perché visto che il compito sarà sul laboratorio. E quindi questo è un pochino più complesso come meccanismo, quindi cercheremo di trovare qualche mezzo per farlo. Poi, onestamente, ovviamente non possiamo controllare ogni millisecondo di ciascuno di voi. Ci sarà un controllo più o meno generale, vedremo se riusciremo eventualmente a registrare il desktop, non tanto le facce, ma questo dipende dagli strumenti, cosa saranno in grado di fare. Disconnessioni minori non dovrebbero essere un grosso problema. Sicuramente sono un fattore di stress, perché mentre state facendo l'esame, dovete un attimo fermare un attimo il pensiero, riprovare a collegarvi, eccetera, eccetera. Ok. Va bene. Se non ci sono altre domande, potremmo abbiarci alla chiusura, i saluti. E se vi vengono in mente domande più avanti, ovviamente abbiamo sempre Telegram con cui poter chiacchierare nell'arco della settimana. Allora, come dicevo, spero, appena io avrò le previsioni di date, ve le comunico anche direttamente su Telegram, sapendo che, attenzione, che sono date provvisorie, ok, quindi non cominciate a bloccare troppe cose, però magari vi accorgete anche voi se ci sono dei problemi con altri esami troppo vicini. Non dovrebbero esserci problemi con altri esami del terzo anno in termini di concomitanza di date. E quindi appena ce l'ho ve lo comunicherò e nel frattempo cercheremo anche di capire i dettagli tecnici. Va bene, per la settimana prossima, quindi domani c'è il laboratorio ancora sulla ricorsione, dalla settimana in prossima in poi cominceremo i grafi e quindi impareremo l'argomento nuovo. Qualche cosa sui grafi, già ve lo ricordate, dal corso di ricerca operativa, chiaramente qua lo approcciamo in un modo molto più implementativo, più appunto di sua programmazione, quindi vedendo una libreria appunto che ci serve per lavorare con questa nuova struttura dati che poi alla fine vedremo che combina liste mappe al suo interno, ma già in un modo strutturato con già molti algoritmi già implementati che potremmo utilizzare. Quindi questo sarà poi il lavoro della settimana prossima, dei video che pubblicheremo verso fine settimana e staremo un paio di settimane, due settimane e mezza sui grafi per poi passare all'ultimo argomento che è quello delle simulazioni che ci occuperà le ultime due settimane del corso. E non sembra, ma siamo arrivati alla fine. Ok, direi che non ci sono altre sollecitazioni da parte vostra e quindi vi ringrazio ancora una volta per la compagnia e ci vediamo la settimana prossima e ci sentiamo nel frattempo attraverso Telegram. Buona giornata e grazie a tutti. Grazie a tutti.